Benvenuti a Santa Andrea, la festa degli albergatori e degli istruttori della provincia di Cuneo. Ogni anno si rinnova questa tradizione che è stata insediata anni fa dal mio precedessore Andreino Duranto. È sicuramente un momento, un'occasione anche per farsi gli auguri per le feste tra colleghi, ma è anche un momento di riflessione per l'intero settore. È un settore che è sicuramente in crescita perché non si può automatizzare, è un settore dove i giovani, se hanno voglia, possono trovare un impiego e sicuramente anche una prospettiva. Proprio in un momento di restrizione di lavoro come in questo momento, noi lo consigliamo con grande entusiasmo ai nostri giovani. Nella nostra provincia il turismo sta crescendo sempre di più e man mano che cresce il turismo sicuramente cresceranno anche i posti di lavoro in questo settore. Quindi ci auguriamo che soprattutto la stagione invernale che è alle porte possa essere proficua e ricca di soddisfazione per gli operatori turistici e per le vallate che circondano le nostre bellissime montagne. Grazie.